Secondo appuntamento della seconda parte dell'undicesima edizione di Building a Puglia, costruendo l'identità della Puglia, la Puglia che scrive, che edita e che parla di sé. L'originale rassegna promossa dal Servizio Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio Regionale della Puglia presenta per il secondo incontro il libro di Valdemaro Morgese dal titolo L'amore per l'economia, edito da Edizioni dal Sud. Testimonial della giornata Dionisio Ciccarese, direttore di Epolis. Se la domanda è ci si può innamorare dell'economia, devo rispondere di sì, basta leggere il libro di Valdemaro Morgese e si capisce come e quanto ci si possa innamorare dell'economia. E d'altra parte, in questi anni abbiamo visto come l'economia sia esattamente tutta la nostra vita, prepotentemente tutta la nostra vita. Valdemaro Morgese, per 15 anni direttore di Teca del Mediterraneo, e cofondatore dell'ecomuseo del Poggio delle Antiche Ville e attualmente presidente della sezione pugliese del AIB Puglia. L'amore per l'economia è la terza parte di una trilogia di libri che parlano di amore, di amore per la cultura e di amore per la politica. L'amore per l'economia è una raccolta di editoriali che io ho scritto per Epolis Bari e per la Gazzetta dell'Economia, che sono due giornali diretti da Dionisio Ciccarese. E in questi editoriali ho cercato di dare una immagine umana dell'economia. L'economia non come scienza, ma come disciplina umana al servizio della persona, dell'individuo, per migliorare cioè la società e quindi badando soprattutto agli individui. Il prossimo appuntamento di Building a Puglia il 24 ottobre con una giornata dedicata ad editore.